La cosa più bella che noi umani possiamo fare per questo mondo e per questo universo è quello di riunirci insieme cercando di raggiungere ideali nobili, ideali di cooperazione, ideali di buona convivenza, ideali di rispetto e ideali di amore reciproco, ma se gli uomini poi non ce la fanno, l'universo non ha fretta, l'universo non ha tempo, perciò l'universo vi aspetta, nel frattempo potete giocare e divertirvi nel vostro piccolo orticello dell'egoismo, nel vostro piccolo orticello dell'odio, della rivalità, potete confrontare gli orticelli, potete distruggere gli orticelli degli altri, potete dimostrare che il vostro orticello è più bello, potete anche fare in modo di denigrare gli orticelli degli altri, potete anche bruciarli e fin quando vivrete in questo mondo di egoismo, come dico, come ho sempre detto in altri video, l'egoismo è il demone peggiore che avete dentro e pensate che l'egoismo ne ha tre di demoni, il demone o il maestro del primo livello, il maestro del secondo livello e il maestro del terzo livello, perciò quello che posso consigliarvi è quello di stare tranquilli, di non agitarvi, se siete dentro una vibrazione di consapevolezza e siete dentro in quella realtà, state tranquilli, non vi agitate, pensate alla vostra realtà, soddisfate più possibile, giustamente senza fare del male agli altri, i vostri desideri di livello e non fate male agli altri, questa è la cosa.